Voi volete votare con la legge elettorale che è uscita dalla consulta? Assolutamente sì, noi abbiamo fatto una legge con Giannotti, l'ha stata dibattuta da 150.000 persone, abbiamo selezionato tutti i punti, 9 punti, abbiamo una legge elettorale che è stata votata dalla rete, dai cittadini, non ce la siamo inventata noi né già nulla, è complicatissima una legge elettorale, però abbiamo messo in rete tutti i punti, sono stati discussi e sono stati scelti. Noi abbiamo una legge elettorale pronta, ma noi vogliamo andare alle elezioni con la legge elettorale che c'è, non con la nostra. Servirà quello che servirà, allora saranno i cittadini a dirci cari 5 Stelle avete sbagliato tutto, andate a casa. Allora io accetto se i cittadini italiani mi mandano a casa, non mi manda a casa una legge elettorale fatta da un interdetto e un delinquente, basta.